Grazie a tutti. Sta avvenendo a Gotham. Ras Al Ghul è immortale. Forse ha poteri soprannaturali. Miseri trucchi da baraccone per cellare la sua vera identità. Ras. Crane lavorava per te. La sua tossina proviene dai nostri papaveri blu, la tramutata in un'arma. Ma Crane non sa nulla della setta delle ombre. Crede che ricatteremo la città. Gotham cadrà sotto i colpi della paura. Ti ho insegnato di meglio, Wayne. Distruggerai le stelle di vite. Milioni di vite. Gotham non deve sopravvivere. Da qui nascono crimine e sofferenza. Gotham è il cuore della decadenza e del degrado. Dobbiamo strappare questo cuore dal nostro petto. La giustizia non può essere misericordiosa. Non vuoi capirlo e questo ti rende vulnerabile. Gotham può essere salvata. Non questa volta. E tutti gli innocenti che moriranno? Innocenti sono sacrifici, come i tuoi genitori, come te. La giustizia non può essere salvata. Non riesci ancora a dormire l'ambiente. E neppure il tuo avversario. Non è ancora finita, Dukar. Il mio nome è Rasal Gul. E per te è più che finita. Addio. Alfred, padron Bruce. Stai bene. Certo, padron Bruce. Però sembra che Lucius Fox sia rimasto in trappolato. Lucius, dove si trova? In cucina, tra le fiamme. Non ho potuto raggiungere. Lo salverò. Poi verrò da te. Sarò vicino al piano, signore. Caccia presto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Grazie. Non muoviamoci, potrebbe passare di qui. Ormai sarà morto. Non lo sapremo finché non vedremo il corpo. Allora troviamolo. Non voglio finire bruciato in questa lurida fogna. Sei ancora tutto intero? Non chiedere. Siamo nei guardi. Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.